Ecco il nostro Max che cerca di prendere la malgasciona che è talmente vecchia che si è addormentata, non riesce, non riesce. Vedete, vedete, la malgasciona proprio lo snobba, lo snobba, lui si impegna, si impegna, ce la mette tutta, ma niente da fare, niente da fare, queste malgascioni oramai sono veramente rinco, sono veramente rinco, vedete, vedete, il nostro Max cerca in tutti i modi, in tutti i modi, mette tutta l'energia, vediamo, vediamo, ecco il nostro Max che continua a prendere questa malgasciona, ce la farà, non ce la farà, prendere la malgasciona, vediamo, vediamo, ecco, ecco, ci siamo qua, ecco, ecco, guardate il nostro, l'ha presa, l'ha presa, ecco la malgasciona, il Max ha recuperato finalmente la malgasciona, finalmente, finalmente ce l'ha fatta.